Sì, sono qui per me per i punti. Sperati Carolina! Sperati, una cosa più forte. Ma vanno più forte adesso o non c'è? Speri, non più forte adesso. Vanno più forte adesso. Speri, si è asciugato un po'. Oh io, basta, dai lo sai la tecna. Ma io non faccio niente più buono. Ma è sufficiente che non lo fai. Dov'è? Qui ho. Ognieri in mezzo. Ma tu dico, non mi sono necipato. Non mi ero scocato male. Non vai la mano e poi non mi si tratta. Cosa devi mettere? Mette un po' di gentanibese. E' una pomada, gentanibese. E poi dov'è? Da sei. Ho fatto un po' di inglese. E' una pomada. Non dico la faccio così. Mette un po'. Comunque no, prendete il pietra. No, prendete il pietra. La rossa. La rossa. La rossa. La rossa. La rossa. La rossa. E' una rossa. A veri, sti dito così. Mi sembra che te lo... Questo dito qui ha 10 anni più. Ma mi facevano, sai cosa sono gli italiani? Voi il figlio delle cazze, un pescatone così, un metro per un metro. Però io ho fatto un po' l'arriano lì. Lo tagliai. Vai arrivai là. Sì, è una fetta di salato. Io voglio un po' così, l'arriano. Se pensi, dieci anni tu... C'è di buono, no? C'è di buono, no? Ah, Kimi? Dì, vai. Con un taggino. No, no, no. Non accorgi dentro. Io lo faccio spesso. Vecce, la mettono nella paginetta. Con le mani. Sì, perché? Ma io ci rimasi davvero, perché... No, no. A me del dottore mi diceva... Gli hanno formato... Cosa erano? Cosa erano? Cosa erano? Ah, ci deve già fare... No, no. Niente, io... Guarda, guarda, con le�ne di un cattico. Si spaccano nella mano. Mi domani. Ma... E poi ho fatto le ponte lì. Ah, allora è un b. Sempre lì, sempre lì. Aprendo preservativo e girando qua. Grazie.